ciao a tutti e bentornati qui sulla north frisice march allora come potete vedere sono le 20 e 12 minuti sempre di luglio dalle puntate precedenti avevamo iniziato un paio di missioni che adesso ho finito non ho più niente da fare tranne che andare avanti durante la notte ma prima visto che qualche punta da fa avevamo attivato la nuova mod con quella della banca che adesso mezzanotte tira via i soldi volevo farlo insieme a voi visto che così andiamo a vedere come tira via la prima rata dei soldi allora io un po di balle le ho vendute e proposto fammi vedere quasi questi fanno abbastanza luce si dai un po di luce la fanno e ho venduto un paio di balle infatti il nostro credito cioè credito il nostro conto corrente siamo un milione quattrocento quaranta quattro altre balle mi sono rimaste che adesso dopo vi faccio vedere ma per adesso andiamo a saltare la notte vediamo nel momento in cui arriva la rata del finanziamento cosa succede ricordiamoci un milione quattrocento quaranta quattro vediamo cosa come va a finire andiamo alle otto di domani mattina non ho neanche dato un'occhiata lì come siamo messi ma wow allora in poca prova sono andati via 90 mila di interessi cacchio non l'ho visto allora proviamo a vederlo qui 90 mila di interessi e 70 mila di manutenzione tenuta da quello che ho visto allora manutenzione tenuta che è poi anche la manutenzione di tutte le produzioni siamo a 70 mila le produzioni ci costano 47 mila manutenzione tenuta e costi di produzione siamo a bellezza di 120 mila e passa quasi 130 mila al giorno però va buono e costi di produzione già siamo a 9 mila adesso abbiamo avuto prodotti venduti probabilmente questa è l'energia elettrica dalle dei capannoni perché non ho venduto niente dopo la mezzanotte e qui costi di consegna dalla produzione 6 mila euro che probabilmente sono la corrente elettrica corrente elettrica e la legname che forniamo direttamente in segheria e compagnia varia ok allora andiamo a vedere che qui ci sono i nostri 90 mila guardate un po' vediamo se 90 mila vediamo se qui ce li fa vedere pure che la prima rate è andata via allora siamo a 59 rate dalle 60 che avevamo dobbiamo restituire ancora un capitale rimanente di 4.922.000 beh direi che non è malaccio piano piano stiamo iniziando a rimborsare dei soldi il tasso è salito o il nostro è rimasto uguale 3.5 è current loan interest abbiamo un 3.6 che da quello che mi sembra di aver visto qui e mi hanno fatto vedere questo tasso qui io lo posso anche bloccare però devo vedere di preciso agricoltura di precisione dov'è produzione info had no c'era non vorrei che qui vediamo un po' dov'è essere qua in fondo allora in charge of loan system the loan interest rate change from a mountain from month to month possiamo fare anche un tasso rato fisso 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 in poche parole non cambia e current loan interest rate 3.6 cos'è possiamo andare a interagire per adesso comunque è fisso lasciamolo fisso per com'è e lasciamolo per adesso così vediamo un po' cosa succede anzi no 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 facciamo una cosa lasciamolo variabile voglio vedere se al prossimo gioco cioè domani o stanotte si tira via sempre i 90.000 91.000 quanto cavolo erano 92.283 o ne tira via un po' di più comunque già qui abbiamo restituito un po' di capitale quando invece qua cicciullava 8.000 8.000 8.000 quasi 9.000 euro tutti i giorni senza che noi rimborsavamo un centesimo di capitale per quanto riguarda la corrente elettrica venduta dovrebbe andare in questa cosa qua prodotti venduti o altro altro qui vabbè qui non calcoliamo perché è stato il giorno in cui abbiamo fatto tutti quei lavori con mutuo carica scarica da denaro compagnia varia che alla fine qui è successo un po' un casino non riusciamo a capire di preciso quanto vale quanto non questa colonna qui per quanto riguarda invece questa qua non so se altro è il nostro guadagno dalle dei capannoni non lo so allora vediamo poi intanto come siamo messi con la raccolta e la semina o allora dovremmo iniziare a seminare la colza se vogliamo ok già è una cosa è iniziare a raccogliere o per meglio dire possiamo continuare la stagione di raccolta con colza e frumento vediamo se c'è qualcosa di pronto allora io di colza dovrei avere solo ed esclusivamente questo pezzettino qui altre robe non ne ho però ci sarebbero due belle missioni guardate qua vediamo se sono pronti ah il mio l'avevo raccolto già precedentemente a proposito qui è successo un casino perché vi ricordate che stavamo facendo la missione sul 59 io non so cosa è successo ma dopo che ho finito di raccogliere tutto ma tutto 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 ho provato ho mandato il mio raccogliatore il mio aiutante lì a scaricare però scaricava scaricava i soldi ma li caricava a me invece di finire la missione alla fine l'ho dovuta annullare ci ho perso anche dei soldi per questa missione qui però va bene dai allora andiamo qua che vi faccio vedere un po' quante balle le balle che abbiamo fatto sul 61 ragazzi sono rimaste tutte tutte guardate un po' qua questo è tutto guadagno nostro anche perché questi li possiamo andare a vendere perché è già insilato adesso dobbiamo solo stabilire il dove sono dentro qua io dobbiamo solo stabilire dove è il prezzo migliore per andare a vendere questa roba qua e allora andremo a vendere fammi vedere il nostro biogas qui come è messo c'è ancora 323 va bene e queste sono le balle oltre che un paio di viaggi comunque le ho vendute secondo me due viaggi li ho venduti altri due viaggi mi sono rimasti perché che ci fai tu qua sopra scendi oh ah lui ha messo in carica vabbè allora ok però questi sono quelli che mi sono rimasti alla fine no? adesso dobbiamo fare due cose vendere queste balle qua perché comunque dobbiamo intascare i soldi perché ci servono vedere un po' se riusciamo a fare non torno a fare di nuovo questa missione perché mi sembra una presa per i fondelli vediamo se possiamo fare qualcos'altro e dobbiamo anche seminare la colza e devo vedere se devo lavorare i miei campi aratura richiesta tiriamo via questa roba qua ma mi sa da nessuna parte vediamo i miei campi non vogliono essere arati tranne il 33 ma qui c'ho l'erba non lo tocco devo andare a seminare sta riga qua di erba e poi iniziamo a seminare un po' di colze io direi che possiamo fare il il 13 e l'11 anche se qua volevo fare un campo unico quasi quasi si si potrebbe pure fare facciamo un campo unico così tiriamo via questa cavolata trinciato qui bisogna venire a dobbiamo fare le cose qui no qua no perché qua non possiamo lavorare aspetta 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 questa dobbiamo raccoglierli ma allora qua invece cosa c'è? cotone ma questo non è il mio campo ma qualcosa è successo con il mio telecomando non lo so non riesco più a girare a destra e a sinistra perché allora qui no qua non c'è bisogno di trinciate di di delle stoppie vediamo un po' qua allora allora io eh avevo tutto trinciato trinciato trinicale un po' dappertutto qui avevo frumento ma qui non c'è bisogno che ci veniamo con il aspetta un attimo vediamo un po' cosa è successo con il mio telecomando che non lo capisco più allora beh allora ho dovuto purtroppo riavviare il gioco perché mi si era buggato qui il joystick finalmente riesco a girare a destra e a sinistra almeno si capisce qualcosa qui perché non si capiva più niente e andiamo a vedere di preciso cosa mi rimane da fare perché così almeno vediamo un po' come cosa dobbiamo fare vediamola sopra in alto eh quella dell'acqua abbiamo acqua sporca per altre 13 ore la produzione l'ide pesce abbiamo diesel per 14 ore fabbrica da cemento vabbè quella lasciamo le perdere che per adesso non abbiamo bisogno di diciamo che non sono così biogas nord inserata per 13 ore sì non è così urgente ok allora noi noios cosa dobbiamo fare intanto andare a vendere le balle vediamo un po' dove le andiamo a vendere insilato insilato vediamo dove le vuole insilato dove lo vuole dove lo vuole dove lo vuole perché questa giornata probabilmente faremo solo esclusivamente un po' di semina e poi correremo avanti finito di seminare la colza abbiamo dato allora questo cacchio di insilato dov'è insilato qui allora per adesso tirbedarf però è basso come prezzo basso 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 è in salita quasi quasi direi che aspettiamo un po' vediamo dove arriva tanto in questi stand proprio non abbiamo bisogno di tantissimi soldi che qualcosa ce l'abbiamo ma se al massimo abbiamo tanta roba da vendere guardate un po' qui assi 453 fertilizzante non lo vendiamo fertilizzante liquido neanche perché può servire l'additivi neanche gravel e sabbia nemmeno compost neanche per adesso allora abbiamo un po' di carta da vendere carport playwood 328 e in disce e in salita possiamo aspettare un altro po' osb l'abbiamo venduto ma abbiamo ancora della roba da vendere e possiamo anche qui aspettare un po' direi che i prezzi qua questo qua cos'è? oh pavimento questo qua è bel prezzo dai allora andiamo a vendere quark eh allora quark lo vuole a Lidl qualcos'altro che vuole a Lidl che i prezzi sono buoni si toilet paper vendiamo sta roba qui ok allora e intanto tu aspetti tu aspetti io ho bisogno di un trattore grosso dov'è? eh mi manca no l'avevo qui l'avevo ah l'ho saltato che idiota qui andiamo a prenderci la seminatrice così che nel frattempo andiamo a seminare un po' di colza eccolo qua dov'è guardate ecco come è messo allora si no va bene allora manutenzione va bene gasolio per adesso va bene andiamo a prendere la nostra seminatrice e andiamo a seminare con la colza l'undici e il tredici perché se andiamo a mettere la cosa la raffineria abbiamo bisogno di colza gira soli e quella roba lì così mentre questo si fa quella roba allora vediamo un po' cotone cozza facciamo il pieno di tutto quando ce l'abbiamo quella roba non ci manca ok questo è a posto mettiamo dentro anche un po' di semi poi possiamo mandarla pure via così che adesso peccare qua il buco giusto please mannaggia doi eppure lo so che c'è non mi ricordo mai se è davanti o dietro proviamo dietro ah ecco che ho beccato il suo giro dai ok allora visto che ce l'abbiamo qua di fronte potremmo fare pure il quasi quasi sai cosa facciamo che intanto vado un attimo sul visto che lì è raccolto vado con questo un attimo sul campo 41 e vado a seminare quel po' d'erba che devo seminare la vicino allora tu vamo un attimo sul 41 così io al frattempo faccio qualcos'altro ok ok vai sul 41 siamo a posto poi e qui c'è da registrare i percorsi ancora tu per adesso non fai niente diciamo che e ce l'abbiamo un po' tutti in sciopero per adesso guardate un po' qua seminatrici, mezzi, quella roba lì devols l'unica cosa che vedere che voglio vediamo e vedo voglio provare a vedere se trovo in offerta una bella no questa però non mi piace cercavo una di queste però non mi piace le qui mmm no vabbè non fa niente allora vediamo un po' eeeh ah te ti devo mettere ancora in funzione eeeh un doppio vicino va bene attiviamo anche questo così che siamo a posto tu sei ok tu avevi dato prima secondo me siamo a posto sia con l'uno che con l'altro ecco dove era il trattore grosso tu sei ok eeeh questo lo stacco perché non va bene qui e con questo andiamo a a vendere un po' di roba e non so dov'è l'altro trattore eh l'altro camion ma quello lo scopriremo ok allora danni il toilet paper o mi dai un po' di assi dammi un po' di assi allora qua ce ne vanno se non sbaglio 30 30 perché non carichi ah sì perché mi sono dimenticato di attivare nel joystick il coso per caricare ok allora andiamo a attivare anche questo li ho caricati tutti mi sono dimenticato di fare questo ho dovuto ricaricarlo questa cosa qua due maroni ogni volta caricamento automatico pallet e cariche pallet qui ok tipo di caricamento pallet facciamo così quindi cambia lato di scarico adesso non mi ricordo successivo tipo di caricamento mai avuto scarica qui mettiamo questo cambio al lato di scarico era questo ok vediamo oh sì allora tiriamo via questi due perché non li vuoi mannaggia andiamo a vendere questa roba altri soldi in arrivo vediamo se possiamo fare qualcos'altro poi dobbiamo vedere anche come siamo messi con gli animali perché secondo me c'è la stalla di qua piena e devo spostarli non non è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo bisogno dei soldi per lo zuccherificio e non voglio altri prestiti e non voglio neanche immagazzinare la roba. Voglio mettere tutto direttamente dentro allo zuccherificio che andremo a comprare nel momento in cui ho i soldi così quello viene piazzato. Ma non voglio tenerlo neanche tanto tempo senza farlo lavorare perché altrimenti ci costa solo dei soldi. Io adesso non so di preciso quanto è durata questa puntata perché tra i problemi che abbiamo avuto con il telecomando, tra che ho dovuto riavviare il gioco e risettare un po' il coso non so di preciso quanto è durata. Comunque noi ci rivedremo nella prossima puntata dove andremo a fare qualcos'altro quando abbiamo beccato 270.000 circa. Andiamo a vedere se questo nel frattempo è arrivato. Adesso io mi finisco di seminare qua un po' d'erba e poi noi continueremo con il campo 11, 13, quella roba lì. Ok, allora ragazzi se non ve lo volete perdere e vi volete uscire al canale iscrivetevi al prossimo video, ciao!